Siamo al termine della terza settimana. Scusate, buona giornata a tutti. Siamo al termine della terza settimana, è sabato e tradizionalmente anche nella nostra parrocchia al pomeriggio del sabato c'è la possibilità delle confessioni. Questo è stato un tempo abbastanza strano dove non c'era la possibilità, non c'era il luogo, si fa fatica a trovare tutte le cose per riuscire a mettere insieme anche il sacramento della riconciliazione. Ma vi dico questa cosa perché il Vangelo che stiamo per leggere, sempre di San Matteo che ci accompagna in questo avvento, è un Vangelo che ci apre una porta difficile da varcare. Ascoltiamolo. Pietro gli si avvicinò e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. E qui siamo davanti al grande mistero del coraggio del perdonare. Perché noi come punto di riferimento abbiamo Gesù, abbiamo Dio. Se noi leggiamo l'Antico Testamento, soprattutto i profeti in questa settimana di avvento, ci accorgiamo che da una parte c'è Geremia che continua a mettere davanti al popolo ebraico tutte le sue colpe, tutti i suoi tradimenti. Dall'altra parte c'è il profeta Zaccaria che continua a dire ma voi siete il mio popolo, io vi sono vicino, io vi voglio bene, io voglio che stiate sempre vicino a me, ascoltate la mia voce. Per cui noi siamo davanti a un Dio, a un Signore Gesù che aspettiamo nel Natale, che ha una caratteristica che non è di questo mondo, che è quello della misericordia, quella del perdono, quella del non guardare le offese che riceve, ma di guardare il cuore dell'uomo. Per cui Gesù può dire a Pietro non fino a sette volte Dio ti perdonerà, ma Dio ti perdona sempre al punto tale che tu non puoi dire perdonerò a quell'altro sette volte. Se tu vuoi essere mio discepolo, dice Gesù a Pietro, devi imparare a perdonare sempre, non devi avere nel cuore né il rancore né il ricordo di quello che hai subito. Tu hai il compito, come faccio io, dice Gesù a Pietro, di perdonare sempre. E noi ci rendiamo conto che su questa cosa non ci siamo, non ci siamo. Ma ve lo dico io perché faccio fatica, ma credo che tutti voi che ascoltate vi rendete conto che il perdono verso gli altri è una cosa difficile. Ecco perché nella nuova dicitura del Padre nostro c'è scritto rimetti a noi i nostri debiti come anche noi. Cioè quella anche lì ci fa capire che non è semplice, dobbiamo metterci qualcosa in più per arrivare al perdono dei peccati, dobbiamo impegnarci un po' di più, forse dobbiamo ascoltare un po' di più la parola di Dio per entrare nella logica della misericordia del Padre. Allora questo sabato è proprio il sabato in cui noi dobbiamo imparare a perdonare. E siccome sappiamo che perdonare non è una cosa facile, io vorrei offrirvi una indicazione che ho avuto quando, facendo un corso di esercizi spirituali a Eupilio, c'è stato un pomeriggio in cui abbiamo incontrato un religioso che è a Torino che ha fondato l'Università del Perdono. E lui ha fatto un incontro, ha scritto un bellissimo libro, bisognerebbe avere il coraggio di andare a confrontarsi anche con lui qualche volta. E in questo libro la prima cosa che dice questa vuoi davvero perdonare chi ti ha fatto del male? Incomincia a vivere bene tu, a non vivere di rimorsi, a non vivere di sensi di colpa, cerca di vivere la tua vita con serenità perché quando tu sarai sereno, tranquillo, quando tu avrai acquistato la grandezza di Dio, che è quello che guarda i suoi figli peccatori con amore, quando tu sarai così, ad agio ad agio arriverà, magari ci vorrà una settimana, un anno, dieci anni, ci vorrà una vita, ma il primo passo è cerca di vivere bene la tua vita senza sentire tutte le colpe che hai addosso, senza fare in modo che tutto quello che c'è attorno a te ti opprima. Voi immaginatevi un po', stiamo parlando questa settimana delle case da mettere sul presempio, pensiamo anche alle nostre famiglie, ci sono tra i genitori anche dei momenti di confronto magari aspro, un confronto che porta o l'uno o l'altro a tenere giù il muso per un po' di tempo. Possiamo immaginare che anche Giuseppe e Maria nella casa di Gesù abbiano dovuto imparare anche loro, ad agio ad agio, questa capacità del perdono, l'arte del saper perdonare le persone. Ecco, oggi è sabato, diciamo una bella Ave Maria alla Madonna perché ci aiuti a entrare in questo bellissimo mistero da una parte del perdono di Dio e dall'altra parte della nostra decisione di saper anche perdonare i nostri, quelli che ci hanno offeso. E allora questa cosa è una cosa che costruisce il Signore. Cantiamo per l'ultima volta la preghiera che abbiamo fatto questa settimana. Se il Signore non costruisce la città, invano noi mettiamo pietra su pietra. Se la nostra casa non fosse la sua casa, invano camminiamo, camminiamo insieme. Come vedete mi vengono anche le parole diverse, ma noi siamo abituati. Quando preghiamo non siamo così schematizzati. Ci lasciamo prendere un po' dallo spirito. Buona giornata, buon sabato e prepariamoci perché tra poco avremo due grandi solennità, Sant'Ambrogio e la Madonna Immacolata.